Chi non lavora non fa l'amore e chi lavora non trovo tempo Ragazzi pronostico per domani Juventus Zotzoneri per in casa per fare 31 vittorie su 31 Il Milan si schiera con Donnarumma e altri giocatori ma noi siamo superiori Voglio parlare di un caso molto importante di Agnelli accusato per mafia, per biglietti Ma non ci credo proprio il nostro presidente unico al mondo è il più grande Gli Agnelli sono il numero uno, sempre il numero uno Da sempre con la Juve sono stati, da sempre devono essere difesi Da grande Eduard Agnelli e dai fratelli Giovanni e Umberto Agnelli e tutta la famiglia Agnelli Sono il numero uno e li dobbiamo difendere contro tutti e contro chi si mette contro la Juve E contro questa famiglia che sono unici, unici sono Forza Juventus e forza Agnelli, quest'anno ci dogneremo dei sassoni dal culo Io che credo che faremo le triplette Faremo le triplette, scudetto, Coppa Italia e Coppa Campioni E vaffanculo a tutte le tifoserie italiane Vaffanculo Ciao